La mia di Mariangela Bartolone è una designer che realizza gioielli in argento e oro e in anche altri metalli lavorati con perizia e con design veramente del tutto particolari e design particolari che si rifanno a una determinata tipologia che è quella delle simbologie e della grafica dei cerchi del grano. I cerchi del grano hanno tantissimi disegni, non hanno cinque disegni soltanto come sono quelli realizzati finora, però Mariangela sta lavorando anche su altre forme, però l'importante nella sua intervista di stasera è quella di parlare della sua esperienza personale che l'ha condotta alla realizzazione di questi gioielli perché sono realizzazioni che riguardano un vissuto, una sua personale esperienza che la ha portata a produrre questi oggetti che hanno una valenza non soltanto di monile ma anche di valenza energetica che serve quindi per le persone anche a livello terapeutico, terapeutico in tanti sensi, sia fisico sia anche di carattere più interiore, più intimo. Quindi lascio la parola a Mariangela perché ci spiega in questa maniera la potenzialità che hanno questi disegni di queste gioielli. Allora per poter parlare chiaro di questi gioielli perché ho voluto proprio sinceramente approfondire questo argomento per far capire meglio. Allora questa è stata la mia esperienza vissuta, ho capito che i cerchi del grano che sono praticamente simboli in definitiva a queste figure geometriche grandissime che hanno dimensioni enormi, addirittura arrivano a chilometri e che vengono fatte e non sono quelli adulterati dall'uomo cioè le famose bufale che vengono per prendere in giro, per divertirsi ma sono effettivamente da questa energia cinetica celeste che si impianta con l'energia tellurica della terra e vanno a impiantarsi in questi acquitrini come un processo alchemico, come sapete finissima l'alchimia è l'acqua e il fuoco che si uniscono per creare poi la forma e così succede in natura e da lì mi sono accorta dei cerchi del grano, infatti non erano le spieghe di grano spensate, bensì erano piegate come se un fabbro avesse fatto con un grande calore dove c'è la giuntura della spiega l'avesse piegata, è come un inchino al divino allo scopo divino chiaramente di un messaggio, infatti secondo me i simboli racchiudono soprattutto questi simboli racchiudono un messaggio divino come ci sono i mandala che sono ispirati nell'uomo a essere disegnati ma è sempre un messaggio e un'ispirazione che viene da qualcosa di più alto, di più elevato questi posso dire che non c'è tramite uomo, c'è divino e natura e secondo me la natura esegue sempre e perfettamente ciò che il divino vuole. Allora molti dicano angeli, parlano di extraterrestri, non so che dire, io posso aver avuto l'esperienza di queste palle luminosissime di cui potrei raccontare anche un amico che mi ha confermato lui stesso questa esperienza che durante la notte a velocità enorme vanno a formare queste forme bellissime di più aspetti quello che posso dire è stato che nell'entrare in un cerchio del grano a parte la mia esperienza personale dove io entrandoci ho avvertito proprio queste frequenze, le ho sentite sul corpo perché avevo avuto un problema fisico dovuto a un trauma da separazione, questo mi aveva anche ridotto a dei dolori, a dei problemi fisici perché chiaramente ogni sofferenza interiore poi si somatizza sul corpo. Io entrando in questo cerchio ho avvertito come un beneficio e sentivo come se qualcosa mi avesse ricaricato la parola esatta perché passavo momenti non facili dove la mia mente continuamente a frullare, continuamente in difficoltà eccetera. Poi mi sono resa conto in quale cerco era entrata quello karmico e in effetti io avevo questa vita dopo ho capito che dovevo bruciare questo karma che in definitiva era di vecchia data, probabilmente anche albero giornalogio e non solo ma anche di quello che avevo sbagliato nella vita corrente, quindi dovevo andare a fare un percorso abbastanza particolare quindi questo cerchio è come se mi avesse comunicato qualcosa. Poi c'è sempre la mancanza della fiducia delle persone perché c'è sempre dover credere a determinate cose, ecco è stato un credere nel tempo perché mi ponevo tante domande, dicevo come mai sono cambiata questa sensibilità, perché questi cerchi non mi danno pace, perché sento che questi cerchi hanno dei messaggi, perché devo tirarli fuori e perché sono mandati, cioè qual è il motivo, perché in definitiva è il significato che un simbolo o una forma viene fatta su un cerchio del grano, perché deve essere visibile all'uomo. Bene, io ho capito che dovevano essere visibili, che dovevano essere pubblicizzati, che dovevano essere mandati e niente, a parte i vari testi in cui ho appreso tantissime cose, tra cui Anna Maria Bona posso fare nomi, proclamato, perché all'interno di ogni cerchio c'è il segreto delle ottave le ottave sono le note musicali, quindi si parla sempre di frequenze, di hertz e di unità bovisse insomma, quindi è chiaro che mi sono dovuta documentare e informare su queste cose finché sono arrivata ad apprendere la radestesia personalmente, quindi a capire che cos'era quindi dalla radestesia è che appunto abbiamo tutti questa capacità e probabilmente questa capacità l'avevo anch'io e quando sono entrata nel cerchio del grano, entrando nel famoso cerchio del grano che poi si forma negli acquitrini, ho capito probabilmente che avevo questa caratteristica era di estetica e da lì è cominciato il mio percorso di conoscenza e di voler capire quello che i cerchi volevano darci, a parte le spiegazioni che Anna Maria Bona in alcuni testi ha dato, io da lì ho approfondito lo stato emozionale, ho approfondito da dove derivava, da che problema spirituale, poi ho visto Anna Maria Bona anche lei ha capito e è andata oltre e che praticamente contattando determinate situazioni potevi andare a delle malattie addirittura karmiche a contattarle perché non nel nostro DNA abbiamo tutte queste memorie, abbiamo tutte queste situazioni che basta che nella vita corrente tu provi una situazione difficile o un problema che ti traumatizza potresti andare a contattare anche una malattia o uno stato di cui poi chiaramente può essere stato tuo oppure anche di un tuo avo e quindi nel nostro DNA tutto è timbrato, tutto è scritto e quindi chiaramente vai a contattare con quella emozione negativa, emo, emoglobina, è tutto timbrato in questo nostro DNA, questa grandissima spirale, questa scala spirale che noi abbiamo e che appunto è energia, perché sangue è energia, in definitiva l'energia che noi di solito si va a misurare dalla terrestre e il cielo è sempre una forma di aspirale, perfetto, quindi che cosa voglio far capire? Che questi cerchi in definitiva sono stati mandati per aiutarci e ho nelle varie forme che ho testato, ho capito dove andavano a toccare quindi andavano a toccare appunto quei sentimenti negativi, quei sentimenti che ci tengono chiusi, che ci tengono chiuso il cuore, che ci tengono chiuso il sentimento, le sensazioni, le emozioni, le stiamo tutte perdendo perché stiamo diventando sempre più difficoltosi, sempre meno aperti, sempre meno disponibili, sempre più irruenti, sempre più scostanti, intolleranti e niente, io nella mia ricerca a caso proprio ho scelto cinque forme e devo dire quelle cinque forme ho capito che mi riguardavano, mi riguardavano ed è stata un'esperienza incredibile perché dicevo sempre non ero un tipo geloso ma poi dopo ho capito che lo ero, lo ero in determinate cose, anche negli affetti, lo ero molto negli affetti, magari non lo ero per le cose ma lo ero per i sentimenti, mi sono accorta che c'è stato dei problemi in cui ho dovuto contenere la rabbia e quindi la rabbia mi faceva sì che questo contenimento, il sangue andasse per conto suo, rivoluzionasse, quindi chiaramente il lightness doveva andare a purificare questa cosa e quindi mi faceva alzare, abbassare la pressione, sono sempre stata una persona che ho mai avuto problemi e a un certo punto ho scelto il lightness e da lì ho capito che cosa stavo covando dentro di me e posso dire anche il tolerance che il tolerance è stato per la comunicazione, io avevo difficoltà comunicative con le mie figlie, con la mia famiglia, anche col mio ex marito in cui mi sono separata e ho notato tantissimi errori personali e questo tra l'altro c'è stato anche una lavorazione sui sensi di colpa perché poi questo mi ha fatto vedere come se mi avesse aperto un mondo completamente arrovesciato la cosa incredibile è stato anche l'armonia, è quello che sto indossando che è quello dove chiaramente si innescano tanti pensieri, preoccupazioni, ansie, paure e dove praticamente questo viene anche danneggiato da campi elettromagnetici perché più i tuoi pensieri, più i pensieri ti arrivano dall'esterno più i tempi elettromagnetici, armonia ti aiuta a scandagliare tutto questo nello stesso tempo posso parlare del life, delle mie paure, delle mie ansie tutte le problematiche che sempre mi sono state dall'educazione quindi condizionamenti, dover frantumare in tanti anni devo dire che ogni cerchio per me ha avuto una funzione quello che posso dire mi sono accorto la stessa funzione che ho avuto sulle persone che avevo vicine perché alla sua volta indossando un cerchio comunque mi accorgevo che la persona veniva attratta da questo cerchio e io comunicavo che cosa poteva esserci di più perché ho avuto anche questa opportunità di scoprire a quali chakra erano legati a quale emozioni e a quale anche i traumi potevano essere legati chiaramente io negli opuscoli scrivo quello che è giusto scrivere anche perché magari delle volte puoi anche impressionare le persone quindi io cerco sempre di scrivere qualcosa infiorettando romanticamente determinate cose quello che dico sto testando altre 4 forme che mi stanno dando delle risposte molto interessanti sono delle forme nuove di cui appunto è stato un architetto che mi ha interpellato perché mi ha detto guardi io sono stata attratta da queste 4 forme e le ho tratte da una rivista americana sarei curiosa di capire, di sapere e così è successo che le ho testate e nel testarle io questa persona non l'avevo vista né conosciuta nel testarle è venuto che effettivamente alcuni temi riguardavano direttamente la persona quello che mi ha convinto a continuare questo percorso perché sinceramente è stato anche l'esperienza di un vissuto non solo mio ma anche di quello che sono state le persone che hanno acquistato i miei gioielli e persone che addirittura mi sono trovata a incontrare anche per la strada proprio ieri la signora che io l'ho vista con il lightness mi ha proprio colpito questa cosa perché appena l'ho vista lei ha visto i miei orecchini ci siamo incrociate e ha detto guardi abbiamo la stessa cosa si dice perché li ho presi questi orecchini perché sono energetici e effettivamente in un anno mi hanno cambiato la vita ho avuto dei problemi di cui io contenevo una rabbia e da lì appunto ho spiegato che quello che la signora sentiva era reale chiaramente ho spiegato anche che come tutte le cose i miracoli possano accadere subito nell'immediatezza ma quando ci vuole anche il suo tempo perché anche a me mi c'è voluto per integrare tutte queste forme le ho indossate tutte il suo tempo perché molte volte l'inconscio non è predisposto non è predisposto perché si vanno a cambiare il campo elettromagnetico ma ci vuole anche una parte nostra interiore di fiducia nel credere che queste sono veramente forme che vengono ad aiutarci le ho tradotte in gioiello proprio perché vengono a contatto con il corpo quindi emanano proprio delle frequenze possono essere usati gli stessi gioielli anche da mettere queste forme sotto una brocca di acqua di cristallo perché chiaramente avendo le frequenze informano l'acqua voi sapete ci sono degli esperimenti proprio da Yamamoto che è anche questo musicista che ha visto proprio che con la musica è lì proprio ritorna il discorso delle ottave musicali quindi hanno proprio delle frequenze per cui vanno a informare le molecole dell'acqua e le possono dopo 24 ore essere bevute all'acqua per diciamo così facilitare ancora questo processo di trasformazione quello che posso dire di questo è anche dire soprattutto che la gente si deve avvicinare a queste cose non con paura ma con predisposizione perché in definitiva se ci sono stati dati come tante cose la natura serve a tutto c'è la floriterapia ce lo insegna chiaramente ogni fiore serve a ogni nostra emozione e lo stesso ogni cerchio serve a ogni nostra emozione quello che dico è stata un'esperienza bellissima per me perché mi hanno veramente dato tanto e tuttora mi danno tanto perché anche queste forme che ha scelto quest'architetto riconosco tutte le volte che testo mi meraviglio sempre di più perché vado a cercare chiaramente la frequenza le unità bovis gli hertz vado a vedere appunto a quale chakra di riferimento e in base al chakra di riferimento vado all'emozione quindi legato a può essere all'albero genealogico può essere legato a un'emozione personale e quindi a dei sentimenti a quelli che sono anche i sentimenti negativi perché chiaramente che cosa vanno vanno a lavorare sul sentimento negativo a trasformarlo a staccarlo e a dare tutto un input completamente diverso della persona ed è proprio una trasformazione in positivo ho detto tantissimo e lo ripeto che molte volte il gioiello può rompersi come può rompersi la pietra ho notato che la pietra serviva a rafforzare il gioiello ma siccome tantissime persone hanno detto sempre che la pietra si è staccata perché le frequenze sono basse quindi lo scontro della pietra che va a rialzare nello scontro della pietra che va a rialzare molte volte ci può essere sia la pietra che si stacca proprio il gioiello per la forza molte volte si sono anche imbarcate le forme infatti se voi guardate i miei gioielli hanno un'intaccatura perché mi sono accorta insieme a un caro amico ad estesista che non riuscivo a togliere questa cosa ci siamo accorti che doveva fare l'intaccatura perché la frequenza a contatto con il corpo tendeva a farle muovere a farle imbarcare quindi abbiamo anche ho intaccato il gioiello questo è per far capire quanto è reale questa questa misurazione di frequenze che hanno la decisione probabilmente sarà quella di togliere la pietra infatti lo volevo comunicare di mettere proprio nella scatolina il cristallo che servirà proprio a pulire il gioiello e sarà indossato e nello stesso il cristallo poi lo scriverò dovrà essere a sua volta lavato purificato per ritornare nella scatolina ad aspettare il nostro gioiello vivo di Cerchè de Blè io spero di essere stata abbastanza esaudiente in questa in questa esposizione spero di aver fatto capire un po' quello che sono le esperienze poi chiaramente presto farò delle interviste a persone che hanno avuto dell'esperienza a proposito di questo e mi stavo dimenticando per ricordare che molte volte gli oggetti si rompano ma se si rompano è per far capire che qualcosa si è risolto quindi guardate realmente dentro di voi che cos'è che è cambiato come quella signora che mi ha incontrato per ritornare sempre all'inizio quella signora che ha preso il lightness mi ha detto ma a me mi ha cambiato la vita mi si è rotto anche la collana sono tornata alla persona la persona mi aveva spiegato bene ne voglio tornare a comprare un'altra niente vi saluto con questo con questa esperienza e spero di essere stati esaudienti vi ripeto e a presto a risentirci ciao ciao Grazie a tutti.